Ehi Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben, oggi ti presento un cinturino Elite con batteria per Meta Quest 2 di Zyber VR, prodotto del quale puoi trovare il link in descrizione per l'acquisto, oppure usando un link e coupon che trovi in descrizione puoi acquistarlo con un piccolo sconto. Nello scatolo trovi il libretto per le istruzioni di montaggio, fascia superiore imbottita con strap in velcro, supporto posteriore in gomma per la testa con agganci per il montaggio e ovviamente cinturino con batteria posteriore da 6000 mAh. Braccetti laterali flessibili e resistenti realizzati in materiale più robusto sull'aggancio, regolazione tramite ruota posteriore e cavetto con attacco USB Type-C. I braccetti hanno due posizioni, dritto e a 45 gradi per facilitare il posizionamento sulla testa e la rimozione e sono muniti di alette per facilitare lo smontaggio del cinturino. Una volta montato sul visore e collegato il cavo basta premere il tasto sopra la ruota di regolazione e la carica viene indicata da 4 led. Il montaggio del supporto posteriore avviene mediante l'aggancio di due alette dentro apposite aperture sul cinturino. Basta premere fino a sentire un click e lo spazio che rimane tra il supporto e il cinturino è perfettamente normale. La fascia superiore ha un lato corto che va inserito nell'asola del supporto in gomma posteriore, mentre la parte lunga va inserita nell'asola sul visore, ma per fare ciò dovrai rimuovere l'interfaccia facciale e ricorda che la parte imbottita va rivolta verso il basso. Il montaggio del cinturino è semplicissimo. Dopo aver rimosso il cinturino precedente basta semplicemente agganciare i due supporti ai braccetti del visore e premere fino a sentire un click. Dopo aver completato il montaggio cerca la corretta regolazione operando sulla ruota posteriore, posiziona nuovamente l'interfaccia facciale e indossalo. Per indossarlo nel modo corretto ti suggerisco di posizionare gli snodi del cinturino a 45 gradi, poggiare il visore sul volto e far scivolare il supporto posteriore dietro la testa e infine stringere il cinturino regolando la ruota ed effettuare le dovute correzioni del visore sul volto fino a che l'immagine risulta nitida. Per rimuoverlo tieni il visore sul volto e solleva il supporto posteriore. Cinturino con batteria di CyberVR. Quali sono i pro? Ridistribuzione del peso, batteria enorme che prolunga la durata del visore fino a 3 ore in più, facile da indossare e rimuovere. Contro. È quasi obbligatorio l'uso di un'interfaccia facciale in pelle per ridurre la pressione sul volto, tipica dei cinturini modello Elite. Per l'acquisto usa il link che trovi in descrizione. Like, iscrizione e campanella per supportare il canale, utilizza il tasto grazie sotto il video. Da Bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in VR. Saluti Marmaia!